Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo con noi Antonino Ferro ed è il nostro decimo appuntamento, sarà l'ultimo di questa serie e direi partiamo immediatamente. Il titolo del lavoro di Nino che ovviamente ringraziamo molto per la disponibilità, come vedrete ha lavorato appositamente per questo incontro, come tutti del resto, però ci aveva chiesto di potersi prendere... ecco subito qualcuno, perfetto. Ci aveva proprio chiesto di poter avere un tempo lungo perché desiderava pensare questo suo intervento e quindi è il decimo e ultimo. Il suo argomento sarà campo onirico, personaggi della seduta e griglia negativa. Allora, quando tu Nino mi dici io cerco di condividere le diapositive, però per intanto se vuoi aprire tu mi dici tu quando fare la condivisione. A te la parola. Sei autorizzato ad accenderti il microfono. Ok, grazie. Beh, innanzitutto grazie di questo invito che mi ha fatto molto piacere e al quale mi sono dedicato. Facendo una cosa per me diversa dalle solite, io ho sempre presentato molto materiale clinico a Bobo. Questa volta avevo voglia invece di prendere il discorso in maniera più teorica, cercando di vedere fuori quale tipo di teoria potesse venire, rinunciando quasi completamente all'aspetto clinico, se non qualche cammeo, se lo volessimo prendere, ma non è detto. Questo lavoro nasce dallo sviluppo che c'è stato in questi anni di alcuni concetti che poi direi in maniera abbastanza misteriosa si sono legati l'uno con l'altro sino a dare una specie di pensiero più organizzato. Il titolo già dice quali sono queste cose, campo onirico, personaggi della seduta e griglia negativa. In qualche modo questi concetti hanno seguito quelle che sono state le riunioni plenarie a proposito del congresso che periodicamente c'è sul pensiero di Bion, a partire in particolare da quello di Boston che era stato molto fertile e poi il concetto di città del Messico. Diciamo, le tre strade che si sono provate a convergere sono state una, quella di campo, già che è stata già, come dire, è stato oggetto di un nostro congresso, non so se vi ricordate, a Rimini, per esempio, il segretario scientifico Eugenio Gaburri. Poi l'altra linea in fondo è stata quella di Bion, Bion, un Bion che man mano è andato sviluppandosi e poi diciamo quelle cose di Bion che sono in attesa di ulteriori sviluppi. Sono molte le cose di Bion lasciate abbastanza aperte e che sono in attesa di sviluppo. direi così, con una spruzzatina di alcune derivazioni da parte del, alcune derivazioni dalla narratologia, ma più come impacchettamento, sostanzialmente narratologia è un'altra cosa, la psicanalisi è un'altra. Però alcuni, così, qualche pennellata la si può anche prendere da lì. Ecco, io adesso comincerei a leggere, però ogni tanto mi fermo e dirò qualcosa secondo quello che succede. Quindi vi sono molte descrizioni. Aspetta, scusa Nino, metto le immagini? Non ancora, ok, perfetto. Vi sono molte descrizioni del concetto di campo e tra esse continuo a trovare quella più ricca e che apre nuove costruzioni, come quella formulata da Francesco Corrao, nella quale l'analista si trova a far parte del campo che anima. Cito soltanto Corrao, perché poi dovrei citare cento colleghi, no? Tutto il gruppo del Pollaiolo, tutti quelli che sono occupati di campo, diciamo Francesco Corrao per tutti. Ecco, adesso se tu puoi mettere la figura 1. E la tua successiva? Un attimo, arrivo, arrivo, arrivo. Voi vedete? Vedete? Perfetto. Quindi quando tu mi dici io vado alla successiva. La successiva. Allora, se osserviamo il quadro di Henry Kerner, The Mirror of Life, che è questo, esposto al Whitney Museum di New York, vediamo che la casella con l'analista può essere variamente posta rispetto alla cornice principale del quadro. Cioè, questo è un quadro che si trova al Whitney di New York e che mi ha colpito perché quando ho visto del trottore, guarda, ecco il campo ed ecco i vari modi in cui l'analista si può porre nelle tre principali concettualizzazioni del campo. Una è questa, in cui voi vedete l'analista che è qui, in questa casellina, e poi c'è il resto del campo. Qui abbiamo un analista che fa parte pur rimanendo in qualche modo distinto. è lì che guarda, sorveglia e fa in qualche modo parte del campo, però è distinto, ne è distinto in modo significativo. Quindi può far parte del quadro pur rimanendo nell'istinto. Un campo onirico di cui fa egli stesso parte e che co-crea. Quindi in fondo passiamo al secondo, il successivo. Ecco, come vedete qui invece ho fatto questo giochino io, di prendere l'immagine dello psicoanalista, staccarlo dal quadro e metterlo fuori. E questo è il campo come inteso in modo prevalente dai barangè, che hanno fatto del concetto di campo, qualche cosa rispetto a quale l'analista si pone fuori, poi interviene dentro, interpreta in maniera cregnaneggiante qualche cosa che c'è all'interno del campo, pur rimanendone distinto, separato e attivamente interpretante. attivamente interpretante quelle zolle che lui chiamava bastioni e che periodicamente bloccherebbero il campo analitico e necessiterebbero di una interpretazione forte da parte dell'analista. E se puoi andare alla prossima, successiva, ecco qua. Qui invece abbiamo, direi, il terzo, in cui c'è l'analista totalmente assorbito e partecipe di quel quadro di cui fa parte, di cui è componente. Quindi questo qua si colgono, penso, le differenze, si vede qui l'analista nella sua casella, ma è proprio dentro al campo, fa parte del campo, diciamo pure, cogenera il campo con la sua presenza, con la sua assenza. Devo fare questa così dopo me la mandano registrata. Non ho capito. Niente, qualcuno si è intromesso perché aveva il microfono acceso. Ok, ecco, e qua si vede bene questo, ho scelto le immagini, così, perché tante cose sono complesse. Ho l'idea che le immagini possono aiutare a capire meglio un po', per esempio, queste tre principali modelli rispetto al funzionamento di campo. ce ne sarebbero altri, volendo sottilizzare, ce ne sarebbero altri 25, però direi che con questi tre li raccogliamo ampiamente, ampiamente quasi tutti. Ecco, qui scrivevo, dalle collimazioni di queste tre modalità nasce il campo cogenerato, condiviso e che vive dall'incontro degli elementi sensoriali che sono stati trasformati. Se Patrizio ci manda il successivo, ecco, qua si vede qualcosa che a me è molto caro, ed è un concetto tirato fuori poi dalla narratologia, ma possiamo anche togliere il riferimento alla narratologia. Nel senso, qua si vedono una differenza che c'è, si vede, mi sembra abbastanza chiaramente, tra persona e personaggio. Questa cosa, però, non vorrei tanto derivarla dalla narratologia, ma la vorrei proprio derivare proprio dalla psicoanalisi e dal sogno, nel senso che il personaggio è qualcosa di più onirico. Cioè, la persona, il mio zio, il mio zio Filippo, da giovane era triste perché era tra la pesca. Con personaggio intendiamo qualche cosa, come dire, di meno concreto e reale della realtà dello zio Filippo che era nato nel 1937, eccetera, eccetera. Ma il personaggio si presta di più a essere visto in una maniera più onirica, più sognata. E allora, se noi consideriamo un campo come qualcosa che si va formando e che prende vita a seconda delle emozioni del paziente, dell'analista e di quanto accade nell'interconnettersi o disconnettersi delle due menti, noi abbiamo tutte queste figure che direi personaggi, più che persone, personaggi che vanno a prendere vita nel parco scenico condiviso dell'analisi e abbiamo lo zio Filippo, la zia Maria, il cugino Pons e così via. Cioè, abbiamo queste immagini che diventano, che si sciolgono in maniera onirica e diventano delle figure presenti. Quindi, se un paziente mi dovesse dire o, che so, mio zio Piero quando era tornato dalla guerra era sempre molto triste, eccetera, in qualche modo credo che ci sia la possibilità di essere portati a pensare diciamo che un aspetto triste, depressivo, qualcosa del genere sta entrando in seduta e aspetta di vedere come viene. E qui si aprirebbe tutto il discorso sulle interpretazioni. E anche qui, quanto devono essere interpretazioni non esplicite, forti, e quanto possono essere invece piccoli aggiustamenti che permettono a questi vari personaggi di avere a che fare l'uno con la gelosia, l'altro con la rabbia, l'altro con con la tristezza e così via. E allora si va animando un campo che chiama onirico proprio perché parla di tante cose contemporaneamente, non soltanto della concretezza dello zio Filippo che ma è proprio uno zio Filippo sognato che diventa un vettore capace di introdurci di volta in volta poniamo la tristezza mentre la zia Maria ci porterà il problema puntini, puntini, puntini quello che sarà. E' qualche cosa che diventa in corso continuamente continuamente di sviluppo. Ecco, qui si apre un altro problema che non vorrei aprire ma in qualche modo accenno semplicemente che l'analogia e la differenza tra questo modo di sentire è quello di Ogden rispetto il terzo analitico. Accenno solamente sostanzialmente la differenza è che in questo modello più di campo esteso è come se noi versassimo tre litri di acqua o se mi consentite la metafora alimentare di brodo o comunque di acqua meglio dove c'è il terzo analitico di Ogden cioè il terzo analitico di Ogden è più asciutto il campo è più esteso per me magari qualcuno è nascosto in quella stradina che voi vedete in fondo e mentre noi focalizziamo il personaggio col cappello come Otello e la gelosia ecco c'è un altro personaggio che magari arriva a cavallo per la stradina in fondo cioè non sappiamo mai quello che succede una caratteristica del campo è anche la sua provvisorietà il cento modi in cui imprevedibilmente si può imprevedibilmente si può animare chiederei a Patrizio la solita cortesia di dare il prossimo ecco qui ho fatto un po' questo esperimento cioè di vedere un po' immaginiamo la seduta come una ditemi voi un salume qualsiasi un tocco di prosciutto e allora è come se avessi fantasticato di fare delle fette delle fette di Bresaula delle fette di Bresaula e si vedessero bene i vari personaggi che sono come il risultato di queste fette che faccio in vari momenti della seduta cioè al momento zero al momento due minuti tre minuti cinque minuti sette minuti venticinque minuti e la seduta questa ma quello che ci capiti spesso è una seduta molto animata entra questo personaggio esce quell'altro è successa questa cosa a scuola si anima una scuola si anima un ospedale si anima qualcuno che deve accompagnare il figlio a prendere la lezione di flauto cioè diventa una cosa viva ma di cui noi abbiamo fettina dopo fettina la consapevolezza di questi personaggi che poi possono essere personaggi umani possono essere personaggi animali possono essere emozioni quindi questo può essere lo zio Pippo ma può essere anche la gelosia questo può essere io che raccontava la sera delle cose quando uno ha un ricordo infantile che c'era questo zio però come qualche cosa che sta accadendo lì non che è accaduta come se il massimo di attenzione l'avesse cosa prende vita che cosa sta succedendo che cosa si va montando smontando lì in quel tempo e si vedono queste figure che prendono vita che prendono animo che fanno un'orchestra come in fondo può essere anche un'orchestra quella fatta dalle emozioni che continuano a prendere vita e a svilupparsi all'interno di questa di questa seduta io guarderei la seconda la successiva ok perfetto ecco qui si continua lo stesso gioco lo possiamo fare possiamo anche non farlo in cui continuiamo a tagliare fettine di bresaula e e all'interno di questa fettina di bresaula vediamo i vari personaggi sognati ecco vorrei sottolineare questo aspetto che non sono tanto cose realistiche il sogno vi arriva vi entra e questo diventa un grande sogno condiviso diciamo qualcosa che ha a che fare con Fellini se proprio dovessi dire ma chi avete presente certe scene di Fellini giuglietta degli spiriti certi momenti no magici di Fellini e credo che questo accada nelle nostre sedute quando in qualche modo funzionano no c'è questo animarsi e qua vediamo potrebbe potrebbe essere che so immaginiamo un candidato che voglia presentare un'associatura presentando una sequenza non di cose scritte ma ma di di figure no non lo proporrò a nessuno di farlo però che so potremmo avere a un certo punto qualcuno che dice la figura che c'è in basso al centro vedete che c'è un orso ecco potrebbe dire un paziente che so mi viene in mente che l'altro giorno nella televisione hanno fatto un lungo un lungo servizio su quel su quell'orso che non mi ricordo dove in Trentino ha inseguito un runner non so perché poi si chiami un runner sì perché cosa ha inseguito un ragazzo che correva e poi lì ecco e poi da lì l'analista deve andare in gioco con la bacchetta da direttore d'orchestra e vedere cosa farne dell'orso che ti è arrivato in seduta inevitabilmente e allora bisognerà vedere cosa farne di quest'orso interpretarlo in che modo sull'analista sul paziente come atmosfera senza che appartengano le mille cose che sappiamo uno può essere tenuto a dover fare oppure diciamo si potrà focalizzare sullo zio con i baffi lì oppure la 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 cugina col vestito giallo e anche lì un'altra storia anche lì ecco l'importante è avere in fondo la convinzione alla quale per me è irrinunciabile di quello dell'ascolto alla Betty Joseph cioè che non c'è nulla che accada nel campo che non abbia a che fare col nostro qui ed ora poi possiamo espanderlo poi per comodità possiamo retrodatarlo all'infanzia reale possiamo post datarlo nel futuro direi io una volta che ho la certezza e forse in questo sono un po' ossessivo che ho la quasi certezza che ho la quasi certezza che tutte queste briciole di frammenti di narrazione hanno a che fare con l'ic et nunc col qui ed ora a quel punto ognuna di queste casellidine può essere espansa in qualsivoglia racconto anche della storia dell'infanzia ogni tanto qualcuno mi 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 rimproverava che io non tenessi conto dell'asse verticale non è vero perché se un paziente mi parla dell'infanzia ci sto ben comodo sull'infanzia ecco avendo presente però che c'è di più che c'è qualcosa che sta accadendo lì nel campo e che non vorrei perdere e che vorrei che si trasformasse no qui potremmo avere dieci storie da montare che tengano conto tutto del del livello onirico del livello sognato di tutte queste di tutte queste possibili cose a questo punto leggerei torno a leggere un pezzettino prima di chiedere a Patrizio e leggerei questo ma dobbiamo fare un passo indietro e domandarci come prendono vita i personaggi del campo il più complesso è quello in cui l'analista partecipa alla co-creazione onirica del campo creazione onirica in doppio senso ecco da beta verso alfa e da pittogrammi e loro derivati verso il sogno della notte a monte del personaggio noi abbiamo della sensorialità grezza ovvero elementi beta che possono essere evacuati oppure trasformati in immagini che prendono vita nella narrazione dei personaggi del campo personaggi che possono essere visti nelle seguenti figure come nascenti da un sotto da cui si stagliano giatti dimensionali oppure che risultano nelle varie sezioni di una narrazione possibile la Bresaula dicevo oppure di una sezione del racconto in cui si animano figure e loro composizioni che esprimono narrazioni emotive e personaggi talora accolti nella loro compretezza realtà o intesi come oggetti interni o come aggregati emotivi o personificazioni di emozioni che circolano nel campo e talvolta nel campo onirico nel quale esiste un primo sogno per esempio oggi a un certo punto in una supervisione io mi sento proprio veramente ho un vissuto di essere allagato no allagato sì allagato di essere sopraffatto da tutte le cose che in fondo che mi venivano dette e a un certo punto mi viene l'immagine mi vengono molte immagini di quelle che hanno fatto vedere in televisione a proposito della Romagna quegli allagamenti della Romagna ecco e in qualche modo ecco lì mi sembra di cominciare a trovare un primo senso in questo no in questa immagine che si formano con questi con questo allagamento e qui vorrei perché lei Patrizio si va avanti di una ecco qui cercate di dirlo in modo semplice per i beta elementi e la sensorialità diciamo questo che la sensorialità di qualsiasi genere essa sia nel modello di Bion è un tutt'uno con gli elementi beta avevo trovato io una volta non ce l'ho qui ma forse l'ho mostrato un altro lavoro in cui c'è la testa di un di una statua che ha la in testa dei dei chiodini dei chiodi e mi è sembrata la rappresentazione più vivida che si possa fare degli elementi beta cioè gli elementi beta sono come dei chiodini che ci perforano che ci perforano la mente e di cui dobbiamo fare qualche cosa perché è impossibile come dire uno stare assieme abbiamo due cose da fare sostanzialmente una cosa è evacuarli cioè un eccesso di elementi beta noi prendiamo e li evacuiamo li evacuiamo cronicamente li evacuiamo tutti insieme li evacuiamo vomitando li evacuiamo con una malattia psicosomatica e così via oppure se ci va bene l'altra cosa che possiamo fare gli elementi beta è trasformarli in immagini interne o immagini mentali e questo è diciamo la catena come c'è nei supermercati c'è la catena del freddo che non deve essere interrotta e qui abbiamo invece come dire la catena del pensiero cioè quello che è il pensiero in bio nasce in un modo che in fondo è molto semplice cioè nel senso noi impattiamo continuamente con la sensorialità che è tutto quello che ci arriva addosso tutto quello che arriva da una cosa che guardiamo alla televisione un urlo in giardino un cane che abbaia tutta la sensorialità che continuamente ci pervade no? a quel punto c'è un o lo eliminiamo facciamo un'urlata diamo uno scappaccione a un figlio cioè evacuiamo in qualche modo questa cosa oppure grazie a quella che chiamiamo io lo chiamerei sogno alfa quello che chiamiamo sogno alfa se non ci piace chiamiamo la funzione alfa però Bion lo chiama anche sogno alfa grazie al sogno alfa questi chiodini possono essere trasformati in immagini in immagini di una casetta in immagini di tutto quello che vogliamo che riusciamo a costruire con i chiodini e quindi i chiodini li trasformiamo da qualche cosa e ci perseguita in qualche modo in qualche cosa che ci dà sollievo e che può essere una casetta una barchetta eccetera e lì comincia la formazione del pensiero e la trasformazione dell'eccesso di sensorialità in qualche cosa di più vivo e soprattutto qualcosa di più creativo ecco vedrei peccato dove sono giunto perché non devo perdermi ecco qua ecco quindi diciamo che il grosso problema è questa partenza dalle tempeste di sensorialità il nostro guaio o la nostra fortuna è queste continue tempeste di sensorialità nelle quali ci imbattiamo e qui possiamo andare alla figura alla successiva ecco qua credo che si veda bene questo come dire questi elementi beta che fanno questa specie di turbinio di elementi beta e appunto il cui destino sarà uno dei due che abbiamo detto cioè o li evacuiamo oppure ne costruiamo qualche cosa per esempio qui uno potrebbe cominciare a vedere una barca una barca all'interno di una tempesta per dire o altre cose e se passiamo alla figura successiva ecco ecco qui cominciamo a dire che possiamo cominciare a capire i personaggi che ci sono vivi nella seduta cioè quello che era uno storm quello che era una tempesta quella che era tutta sensorialità di cui liberarci perché questa sensorialità brucia ecco viene trasformata grazie al sogno alfa o se preferite funzione alfa è assolutamente uguale viene trasformata in qualche cosa che prende corpo e prende corpo per esempio in un cavallo proprio sempre in quella seduta di oggi a un certo punto entra in seduta un papà che regala al figlio o alla figlia un cavallo e questo cavallo diventa il personaggio principale di tutta la seduta come cavallo con la febbre da cavallo con certa violenza del cavallo eccetera eccetera e si va e prende vita proprio questo questi racconti che vengono fatti con questo cavallo che entra con tutte le proprie caratteristiche che entra in seduta ecco qui vorrei fare il passo successivo benissimo e qui vi leggo ancora un pezzettino personaggi indistinti prendono vita più tridimensionali o per soppressione o cancellazione comparirà ecco qui ho fatto una cosa un po' complicata no cioè come da queste narrazioni da queste narrazioni minimali si può arrivare poi a narrazioni complesse perché diciamo questo è il funzionamento della mente al livello di funzione alfa cioè quindi noi abbiamo questo gioco perenne tra immagini e figurazioni e poi narrazione cioè la narrazione fa l'operazione inversa no di riprendere le immagini e di mettere poi in una sequenza narrativa e allora può comparire la narrazione del colonnello dicevo qui ne ho scelto uno che mi veniva in mente la narrazione del colonnello Chabert che è un racconto di Balzac breve fuggita narrazione di intrighi tradimenti amore o no cioè la seduta la seduta si anima con delle cose assolutamente vive ripercorrendo il cammino proposto in una sequenza di intense impressioni sensoriali e prima sono individuabili come rabbia poi come sollievo nostalgia e potrebbero dar vita alla sequenza di pittogrammi cioè lo step 2 diciamo quello che segue al passaggio da sensorialità a immagine o da sensorialità a pittogramma se vogliamo usare il dialetto che secondo me in immagine ci va bene ecco abbiamo questa questo disegno che ci ha dato adesso Patrizio che ci mostra come dire questa sequenza di impressioni sensoriali che parte da rabbia in cui si vede questo storm tempesta ma potrebbe essere rabbia poi abbiamo la seconda immagine in cui abbiamo il sole che esce fuori e che è qualcosa che potrebbe essere poi classificato come sollievo e poi l'ultimo se voi vedete un autunno un tramonto d'autunno che collega in qualche modo a un sentimento di nostalgia a questo punto diciamo è come se posti questi elementi della seduta che vivono in seduta che sono entrati in seduta e che vivono in seduta noi avremmo tutte le storie possibili che derivano da questa sequenza che abbiamo fatto rabbia sollievo desiderio e allora ogni paziente in un giorno diverso o meglio ogni coppia analista paziente utilizzando questi pezzettini di narrazioni possibili ne farà dei punti da cui cadranno proprio dei racconti connessi e collegati con queste emozioni che sono state che hanno circolato in seduta facciamo che non so non ho capito cosa mi si diceva niente Nino è sempre il problema dei microfoni accesi ah scusatemi ecco e allora così si vede come la narrazione in seduta ecco è l'ultimo è l'ultimo quello che il paziente dice o quello che l'analista immagina è qualche cosa che ha a che fare con questa trasformazione di emozioni come abbiamo detto rabbia sollievo desiderio che poi si devono organizzare e declinare in una specie di gioco linguistico in cui ci sia questa sequenza di rabbia sollievo desiderio a permetterci di sapere che cosa ci sta succedendo leggere ancora un pezzettino la formazione la scelta la costruzione di un pittogramma o meglio dire un'immagine o di sequenza di pittogrammi sono estremamente soggettivi sarebbe come lo stesso soggetto dipinto da Picasso Caravaggio Chagallo Goya e se Patrizio ci dà la successiva ecco no lo stesso lo stesso raccontino micro racconto che ha a che fare col sonno con l'addormentamento ecco si arriva Chagallo lo fa in un modo arriva Goya arriva Caravaggio ognuno lo fa a modo suo e questo è estremamente interessante perché questo ci porta a pensare che veramente ogni vita mentale ha le sue peculiarità ha le sue caratteristiche e non si può confondere quello che viene fatto dal signor Chagall con quello che viene fatto dal signor Goya perché ciascuno lo fa a proprio a propria maniera ecco e allora fermiamoci un minuto una cosa che abbiamo detto è funzione alfa cioè la sensorialità grazie alla funzione alfa viene trasformata in immagini questo dopo un'esperienza sensoriale un sogno prende vita nella nostra mente anche quando siamo svegli e questo sogno è il risultato delle operazioni realizzate dalla funzione alfa sugli elementi beta trasformandoli in pittogrammi e poi diventa un po' difficile perché lo stesso concetto viene espresso con parole che hanno lo stesso significato per esempio pittogrammi è uguale ad elementi alfa e questo può generare confusione però ci basterebbe pensare questo che la sensorialità viene digerita in qualche modo e trasformata in immagini grazie al sogno alfa quello che il sogno alfa produce viene trasformato in sogno di secondo livello che è quello che chiamiamo sogno della notte quindi è abbastanza semplice solo che tante volte metti pittogrammi elementi alfa succede una grande confusione tra tutte queste cose che invece se decidessimo di chiamarle in un modo solo sarebbe abbastanza abbastanza semplice io direi se Patrizio ci dà la prossima grazie qua c'è qualcosa sulla funzione alfa dopo un'esperienza emozionale un sogno prende vita nelle nostre menti anche quando siamo svegli e questo sogno è il risultato delle operazioni processate dalla funzione alfa quindi non so se è complesso a me piace non vuol dire niente ovviamente dopo che la funzione alfa quindi opera sugli elementi di beta trasformandoli in elementi alfa quindi in pensiero onerico qui si qui si aggrappano i derivati narrativi cioè qui è il momento che pone lo Chabert qua è il momento è il momento in cui guardare quello che avviene in seduta non se un paziente ci racconta cosa succedeva quando era piccolo o se un paziente ci racconta che è stato allo zoo o quello che ha visto secondo me la cosa importante sarebbe rispettare qualsiasi cosa il paziente ci porta e accettare che la nostra stanza diventi se il paziente è stato allo zoo e ci racconta dello zoo che la nostra stanza ad analisi diventi lo zoo e che possiamo dare ospitalità nella nostra stanza al gorilla al lippoprotamo alla foca a quello che sia dentro la stanza tenendo conto che ogni prodotto dalla funzione alfa è qualcosa che prende vita e che vive nella nostra stanza unendo materiale direi psichico o comunque che parte da sensoriale e viene via via trasformato in psichico e qualche cosa che prende vita dall'unione di quello che accade nella nostra mente e di quello che accade nella mente del paziente cogenerando una realtà nuova che prima che prima non c'era e ovviamente diciamo gli scenari possono essere milioni nel senso ci può essere lo scenario dello zoo ci può essere l'allagamento della della Romagna ci può qualsiasi cosa che venga raccontata entra dentro comunque per essere per essere trasformata una cosa importante che per me è fondamentale molto importante è come i livelli onirici in qualche modo si moltiplicano e per me è la cosa più affascinante dell'analisi cioè una specie di di statuto è questo che tutto quello che è psichico ha a che fare molto col sogno e con questo sogno noi ci impattiamo continuamente e allora abbiamo diciamo la prima modalità di sogno la più semplice è quella che è giocata dalla funzione alfa cioè il sogno alfa il sogno alfa trasforma continuamente sensorialità in immagini ciò fatto i guai non sono finiti perché a questo punto c'è un secondo livello di sogno e pregherei Patrizio di mandarcelo ecco se ce ne mandi un'altra ancora avanti perfetto allora ecco i sogni della notte quindi distinguiamo sogno alfa che è quello che viene fatto direttamente invece qui abbiamo un'altra cosa che è il sogno della notte quello che sul quale saremmo tutti d'accordo quasi i sogni della notte sono costruiti dalla risognazione di tutti i pittogrammi che sono stati stoccati a costruire il pensiero lirico della veia in altre parole tutti i pezzettini di beta che non sono stati trasformati tutti i pezzettini di alfa che non sono stati trasformati e che sono stati stoccati messi in un angolino messi in una borsa messi sotto il tavolo tutti questi vengono presi e c'è una metafunzione alfa che dice non risogniamo tutto questo diciamo come una specie di come si potrebbe dire di massaia che ci tiene al risparmio e dopo che ha utilizzato broccoli cipolle è fatto una bella ratatouille io penserei più alla caponata ma non posso mi si mi si mi si addorcisce troppo il ricordo della caponata e che mi sto sulla ratatouille come se a questo punto avendo fatto questa ratatouille meravigliosa andasse alla ricerca dei pezzi rimasti fuori dalla pentola e prendesse tutti quei pezzi e dice ma facciamo una ricottura di questi pezzi che c'erano scappati e questo sarebbe il sogno il sogno bis cioè quello che è il sogno della notte quindi mentre diciamo il sogno alfa è sogno sia della notte che del giorno cioè lo possiamo fare la prima cottura della ratatouille lo facciamo con i pezzi più freschi che abbiamo lì facciamo tutto 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 e ci vengono queste cose ecco poi tutto quello che è sfuggito in qualche modo al lavoro del sogno alfa viene risognato viene ritrasformato dalla metafunzione alfa e devo dire una cosa di cui è così che mi fa piacere ogni volta che la ricordo che la metafunzione alfa è nata in un pranzo con Jim Grotstein che era una persona veramente straordinaria veramente una persona unica di un humorismo e di una straordinaria capacità analitica e parlando e scherzando ci siamo un po' detti insomma ma che cos'è questa questo sogno chi lo fa da che parti viene e poi mangia un bocconcino di facciamo a un certo punto ci era passo chiaro in quell'occasione che l'unica alternativa fosse immaginare una metafunzione alfa una una funzione alfa di secondo livello capace di raccogliere tutti quei pezzi rimasti fuori dalla pentola e capaci di farci il sogno che finalmente facciamo quando siamo a letto con la luce spenta e possiamo finalmente e possiamo finalmente sognare dicendo anche grazie sogno alfa che ci hai fatto una prima precottura di questi elementi che adesso io posso grazie a te trasformare trovarmi trasformato e fare a questo punto anche il lavoro di montaggio qua si vede una forbice si vede si vedono degli spisci delle spisci di pellicola cioè la fatica e poi questo del sogno il sogno alfa va in automatico e il sogno il sogno di secondo livello il sogno della notte vero e proprio necessita che ci sia l'opera del montaggio che ci sia ecco una fatica nel prendere i vari pezzettini montarli insieme e fare questa poesia della mente ecco i sogni della notte sono costruiti dalla risognazione di tutti i pittogrammi che sono stati stoccati a costruire il pensiero unirico della veglia fanno seguito le operazioni di trasformazione in gioco in cui una sequenza realistica è trasformata in gioco sogno chiederei da Patrizio di continuare ecco qua c'è una cosa che c'è oltre così le respirazioni vengono in momenti strani questo qua mi ha colpito tantissimo è una storia successa a Tostoi che quando era piccolo lui si era messo a giocare con delle con delle sedie facendo con queste sedioline con degli amici dei bambini delle bambine amiche o amici suoi un trenino e giocando come si gioca col trenino, ciuffo, ciuffo, puf, puf, facendo le fermate, eccetera. A prescindere che poi molti racconti di Tostoi hanno come ambientazione vagoni di treno, questo ci sto pensando adesso, che tanto Tostoi si svolge, ha a che fare, no? Ha a che fare con i treni. Però a questo punto il rompe il fratello, dicendo, va cretini, smettete di fare questo gioco stupido, queste sono quattro sedie che avete messo di fila, qui non c'è nessun treno, ci sono soltanto delle sedie. E questo credo che sia ogni volta che il superiore analitico interviene e manda all'aria il gioco del paziente. E qua mi ricollegherei a questo, come nelle varie trasformazioni che abbiamo visto, trasformazioni da beta in alfa, trasformazioni da, diciamo, da alfa in sogno della notte, eccetera, noi abbiamo anche un'altra trasformazione importante, la trasformazione in sogno, a cui poi accennerò, e la trasformazione in gioco. La trasformazione in gioco, secondo me, è una trasformazione fondamentale della mente umana, in cui noi abbiamo la capacità proprio di trasformare in gioco tutto l'eccesso di sensorialità. Quindi a quello che abbiamo detto, a proposito della sensorialità che viene trasformata in immagini, che viene trasformata, abbiamo queste trasformazioni meno immediate, però secondo me affascinanti, che sono le trasformazioni in gioco, che sono le trasformazioni in ritmo, che sono le trasformazioni in musica, che sono... Ecco, e qui questo esempio di trasformazione in gioco ci apre alla possibilità di giocare con i pazienti adulti, perché no? Ci apre alla possibilità del gioco nell'analisi dei bambini e a questo gioco trasformazionale dell'onirico che è un peccato perderci, perché è così affascinante, diciamo, il mondo onirico, di cui mi piacerebbe a questo punto darvi delle sequenze, se volete qualcuno la approfondiamo, qualcun'altro la no. Cioè, diciamo, se apriamo il libro dei sogni, noi ci troviamo, allora, col sogno alfa operato dalla funzione alfa su beta, e questo, l'abbiamo detto, è ripetuto. Poi abbiamo la sequenza delle immagini, cioè quello che è il pensiero onirico della veglia. Poi abbiamo il sogno di secondo livello, che è il sogno della notte, quello che ha avuto sempre lo statuto di sogno. Poi abbiamo le trasformazioni in sogno, che sono anche un piccolo trucco, che è quando il paziente ci dice delle cose e noi non ci orientiamo. Cioè, cavolo mi sta dicendo oggi cosa vuole. Si possono fare tante cose, tra le quali aspettare, tra le quali aspettare che ci arrivi la folgorazione di, come a San Paolo, che ci arrivi una folgorazione grazie alla nostra capacità negativa. Cioè, sono tante le cose da fare. Ma una delle cose che si possono fare è proprio la trasformazione in sogno di quello che il paziente ci ha detto. Cioè, immaginiamo un paziente che ci dica quindi, se avuta le analisi, il paziente dice all'analista che questa vignetta è vera. Dice all'analista mia moglie oggi è stato tutto il tempo a lamentarsi della brutta verdura, della brutta frutta, delle brutte cose da mangiare che il nostro fruttivendolo, di solito così attento, ci aveva dato, riempendoci tutta la cucina di cibi ormai quasi guasti, andati a male, eccetera, eccetera. Ma che c'è, questa analista, è quasi spinto a dirgli ma senta, non parliamo di queste sciocchette perché non guarda dentro se stesso e batte la pesca o una roba del genere per riprendere un po' il contatto con le sue emozioni. Ecco, e qui si accende la lampadina e se invece noi facessimo una trasformazione in sogno di questa comunicazione, mi spiego, un paziente dice al suo analista ho fatto un sogno in cui c'era mia moglie che si lamentava della frutta, delle cose perché era tutto andato a male, era tutto marcio, eccetera, eccetera, e non erano le cose solite buone che mi dava. Ecco, pensate che nel vostro ormamentario analitico, nel nostro ormamentario analitico ci potrebbe essere posto per questa trasformazione in sogno quando c'è qualcosa che il paziente ci dice con cui non riusciamo a trovare il livello, un livello di sintonizzazione sufficientemente buono. Questo arricchirebbe molto il concetto stesso di sogno che è qualcosa che verrebbe ampliato molto, tanto, e secondo me è affascinante, a me piacerebbe un gruppo di studio, ma anche di chi la pensa in modo diverso, figuriamoci, e andare a indagare queste faccende del sogno. e poi altri livelli del sogno altri livelli del sogno da indagare entro le trasformazioni in sogno sarebbe già, vi avevo detto, la trasformazione trasformazioni oniriche, la seduta come sogno, e molti ci hanno lavorato su questo, e poi per aprire un campo infinito e non finirla più, ovviamente, la reverie e la reverie negativa, intendendo per reverie, ciascuno la pensi come vuole, ma mi sembra che aveva fatto un buon un buon lavoro di summary sulla reverie, l'avesse fatto un collega americano, che non ricordo come si chiama in questo momento, sulla nostra rivista che era uscito un bel numero sulla reverie, Fred Bush aveva fatto un buon summary dei vari modi di intendere la reverie, che sono molto diversi, non starei a sottilizzare il mio Lava Meglio del Tuo, sono sempre reverie, non starei tanto a avere il brand di reverie autentica, è qualcosa che ha a che fare con l'onirico, è qualcosa che ha a che fare con la seduta, è qualcosa che ha a che fare con le vite mentali che si incontrano e generano qualcosa di nuovo. E un'altra cosa che ha a che fare con il sogno, anche con il sogno, sono le capacità negative, le capacità negative di cui Bion parla in maniera esplicita e che prendono vita da quello che aveva detto Kitz, proprio in una lettera ai fratelli, in cui la capacità negativa è proprio la capacità di lasciarsi illuminare, cioè la capacità di accogliere una O, cioè la capacità di accogliere un punto di vista che prima non ci aveva mai transitato. Quindi diciamo l'onirico, se si apre la porta all'onirico, poi ognuno può chiamare come vuole, ma c'è l'onirico 1, onirico 2, onirico 3, onirico 5, ed è assolutamente affascinante perché ci consente di deconcretizzare. Io credo che il dito tritore psicoanalitico sia veramente la capacità dell'analista di deconcretizzare e la capacità dell'analista di compiere il più possibile trasformazione in sogno. Questo non vuol dire entrare in un universo delirante, ovviamente, è ovvio che l'analista ha la capacità di distinguere in che sogno è quello che sta succedendo. Però succedono cose affascinanti, questo è sicuro. Io vorrei chiedere come stiamo con l'orario per sapere se devo accederlo. ho dimenticato di l'alloro oggi. Aspetta che guardo io, allora aspetta. Ecco. Sono le 10 e 10 a un quarto. Noi abbiamo fino a che ora? Diciamo che tu teoricamente avevi un'ora, però possiamo allargarci tenendo conto che noi poi verso le 11 ma anche un po' più tardi andiamo a concludere. Vado a prendere anch'io un orologio. Tu continui e ci metti un minuto. Scusi una cosa, Patrizio, volevo chiedere una cosa. Dopo abbiamo noi domande o no? Sì, 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 sì. Apriamo il dibattito in modo che tutti quelli che desiderano intervengono o ti pongono dei quesiti. Allora, io farei una cosa. Farei un summary di quello che ho che avrei ancora da dire. Ma lo farei in forma di assuntiva. E quindi tolgo la presentazione delle diapositive? No, 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 tu sei la mia salvezza, no? Assolutamente. Hai permesso di andare a prendere l'orologio? Arrivo, arrivo in un secondo. Ok. Scusi. eccomi o grazie ecco vi dico quello che ci sarebbe stato ma vi faccio un riassunto una cosa che mi ha intrigato vi dico i lavori in corso una cosa che mi ha intrigato è il concetto di griglia negativa di cui molti parlano ma non tanti hanno affrontato più direttamente la griglia negativa credo che sia ben espressa da due film certe volte i film sono proprio un'espansione direbbe bio nel campo del nel campo del senso e c'è un film bellissimo non so se l'avete visto che si chiama come si chiama after hours in italiano dovrebbe essere fuori orario ed è una storia in cui ci sono due e due protagonisti principali che a un certo punto si incontrano a New York e per motivi vari si trovano in un quartiere di New York completamente sconosciuto ai più e in cui la città conosciuta ogni passare di un quarto d'ora si trasforma in uno scenario mai visto preoccupante, violento con personaggi veramente con personaggi stranissimi e si apre tutto questo mondo diciamo al negativo che nessuno conosce qualcosa di simile succede in un altro film che se avete l'occasione è I am a legend e anche lì c'è una cosa abbastanza simile comunque questa è la griglia negativa avete presente la griglia normale di Bion che lui si divertiva e qui c'è anche qua il gioco cioè Bion con la griglia giocava non è che la prendeva sul serio cioè giocava con la griglia che c'aveva tutta la fila 1, 2, 3, 4 poi c'erano tutti i vari lui si divertiva poi a prendere una seduta diciamo e a grigliarla cioè a metterla sulla griglia e vedere che cosa succedeva ecco e qui un altro punto che avrei voluto trattare è per esempio quello di Fontana ovviamente mi riferisco non ad altri Fontana ma a Fontana Pittore Fontana Pittore e ai tagli e ai tagli della tela e ai tagli della tela di Fontana che ci permettono di guardare al di là che al di là della tela c'è tutto il mondo dietro la tela e anche lì si aprono mondi assolutamente investigabili e poi qui c'è anche un altro pezzetto in cui per esempio se voi avete non so se non vorrei cimentare troppo Patrizio Patrizio tentiamo la figura dopo ancora dopo? non mi è comparsa qua sì ancora dopo ancora dopo questa? dopo ecco qua qui per esempio cercavo di di vedere una sorta di reverie invertita che è un altro capitolo delle cose che è possibile sognare cioè non la reverie più reverie cioè il paziente che proietta elementi beta che vengono assunti e trasformati dall'analista no? cioè la reverie classica in qualsiasi ecco ma qui avremmo un fenomeno completamente opposto cioè quello della reverie invertita cioè in fondo diciamo l'analista angosciato per qualsiasi motivo per qualsivoglia motivo che in qualche modo invade il campo analitico con la sua presenza e con la sua angoscia e diventa fonte di stimoli fonte di stimoli beta che poi il paziente si dovrà che ne farà il paziente ne farà un salto di seduta potrebbe farne potrebbe essere il paziente a farsi carico di questa angoscia in più e cercare di trasformarla in immagini ne farà un sogno cioè si aprono veramente universi secondo me irrinunciabili ecco poi continua il discorso intorno la griglia negativa e poi si apriva un po' un discorso che però non è sviluppato a sufficienza che era quello sulla culla di spago una volta Claudio Neri mi sembra avesse scritto al riguardo ma lasciamolo lasciamo queste cose da parte e un'altra cosa di cui vi avrei volentieri parlato sarebbe stato quella differenza che Ogden fa tra psicoanalisi epistemologica e ontologica che è una cosa secondo me importante io penso che Ogden sia come dire più bravo nel semplificare le teorie lo ammiro molto come capacità di farci capire per esempio l'identificazione colettiva un vecchio lavoro una ventina di anni fa lo fa in maniera straordinaria quando fa esempi clinici non è ugualmente brillante di quando fa invece quando lavora sugli aspetti teorici e questo della psicoanalisi epistemologica ontologica è veramente uno dei dei pezzi più brillanti di cui lui sia stato capace aspettateci tanto poi una cosa che vi avrei voluto dire ma che ho il tempo di dirvi lo stesso è che forse è una cosa straordinaria di Pirandello una cosa straordinaria di Pirandello che sei personaggio in certa dottore non mi viene il titolo ma mi verrà non hai sei personaggio i giganti e la montagna in cui forse io avrei potuto e qui un omaggio a Freud che le cose le capiva quando diceva che i letterati i poeti eccetera ci sopravvanzano di tante leghe c'è questo c'è il suo sette presenti i giganti della montagna è un gruppo di persone che fanno un viaggio insieme e Pirandello aveva scritto i primi tre atti non era non era riuscito a scrivere il quarto atto il quarto atto fu raccontato al figlio l'ultima notte di vita di Pirandello allora il figlio appuntò alcune cose appunto alcune cose non in forma europea di riassunto e grossomodo scusate se sbaglio qualche passaggio tanto che non lo leggo ma era straordinaria questa cosa che era un gruppo di persone piuttosto serie composte era una compagnia di quelle serie teatrali e a un certo punto queste persone decidevano di dover andare a dormire a letto man mano che andavano a letto dalla mente dalla testa di queste persone uscivano fuori dei puppets come dei burattini come delle immagini tridimensionali e queste immagini tridimensionali si parlavano tra di loro e la cosa più straordinaria era che si raccontavano i sogni poi dopo essersi scambiato scambiati i sogni il signor Mario con il signor Piero la signora Melinda con la signora Clotilde dopo essersi scambiati tutti i sogni fatti cosa fanno appena c'è il segno che tra poco si sveglieranno ritornano con le nuove acquisizioni nella testa dei rispettivi proprietari e quindi c'è questo scambio onirico tra una mente e l'altra di e c'era c'è un bellissimo lavoro andato perduto non so se qualcuno magari lo ricorda dov'è deve essere quella bellissima rivista del Pollaiolo in cui c'era un brevissimo articolo a firma di di Chiara Gilda De Simone e Eugenio Gaburri in cui avevano tentato però poi si erano fermati avevano tentato di vedere all'interno di una stessa giornata di analisi che tipo di scambi nelle comunicazioni c'erano che si potessero far risalire ai vari pazienti cioè in che misura il sogno del signor C avesse a che fare col sogno del signor B o con la fantasia del signor Q credo che poi di Chiara sia stato indignato di fronte a queste cose troppo scherzose e niente poi si è perso ma sarebbe stato affascinantissimo se qualcuno avesse voglia sarebbe secondo me un lavoretto da riprendere perché credo che i transiti siano qualcosa veramente misterioso quindi quindi rientro nelle menti dei dei pupazzi dei puppets l'abbiamo detto starei per concludere e due cose una che non avevo capito ma che poi l'ho capita e poi l'altro è che non avevo capito e che l'ho capita no due cose che ho capito una cosa che mi era sempre intrigato era quella quella specie di litigio quella specie allora dico queste due due cose e un esempietto clinico piccolo piccolo eh allora la cosa che non avevo capito era che Bion si incavola si avrabbia diverse volte e lo dice a diverse volte a varie persone anche a Winnicott eh che lui c'era rimasto molto male con la Klein perché aveva detto che eh lui a Damien nella battaglia di Amè era morto e la Klein cercava di edulcorare ovvero sia di interpretare questa cosa eh in tutti i modi possibili immaginabili ma senza mai prendere sia pure per un istante il fatto che lui a Damien era morto gli faceva tutte le interpretazioni possibili diremmo in K ma non sicuramente in o e lui questa cosa non l'aveva mandata giù e Bion e ogni tanto quando incontrava qualcuno nuovo gli raccontava di questo grave torto della 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 Klein e questa è una cosa e poi la seconda cosa era l'ultima figura quindi dove si questa è la griglia questo è l'analista angosciato che entra lui in seduta questo è la fontana e il taglio della griglia oppure ecco si cambiamo poi un altro concetto interessante sarebbe quello di casting cioè di volta in volta di quali personaggi abbiamo bisogno da fare entrare chi ce li fornisce spesso ce li fornisce il sogno del paziente ma talvolta li potremmo fornire noi con la nostra reverie quindi se è un'autentica reverie in fondo potrebbe entrare sempre in seduta poi l'ultima immagine che è l'ultima immagine e che io ho segnato lasciare alla fine della seduta la separazione alla fine della seduta analitica una cosa che non so quanti di noi fanno perché per anni ci avevano insegnato a fare sempre l'interpretazione del venerdì della domenica del lunedì di ogni giorno e questa qua mi è sembrata una vignetta straordinaria la figura 25 in cui ci sono questi minatori che adesso dopo essere stati in miniera escono fuori e mi sembrava la classica interpretazione e mi sembrava un buon motivo per non farla sempre uguale e poi l'ultima cosa che vi leggo un pezzettino per esempio una cosa interessante io ho trovato uso questo come esempio un unico esempio io trovo sempre molto sempre interferenza ecco allora la cosa importante sarebbe diciamo l'interferenza dovrebbe entrare nel campo cioè l'interferenza non dovrebbe essere considerato un disturbo ma in fondo l'interferenza dovrebbe essere qualche cosa che la funzione alfa dovrebbe intercettare ed essere capace di trasformare questo borbottio in qualche cosa di prezioso e che ci dà qualcosa di nuovo e di originale a cui non avevamo pensato ecco come trasformare i rumori ecco i rumori in pensato e dicevo che è una cosa molto interessante io ho trovato per esempio quei pazienti io talvolta sono anche con lei che ci raccontano dei loro pazienti oggi ho avuto un paziente che succede quello poi quello succede e allora è affascinante vedere come se si cambia l'ascolto e si ascolta quello che il paziente ci va dicendo come come dire come un sogno e allora no come inevitabilmente le cose del paziente Davide le cose del paziente Mario le cose del paziente Luigi saranno tutte cose che non potranno che appartenere al nostro Betty Joseph Icet Nunc e e permettere poi di essere sviluppate ed essere risognate in un sogno della veglia e in un sogno della notte che potrà ridare no vita a quei borbottii e consentirci di essere contenti anche quando ci dobbiamo lasciare mi fermerei ho chiuso la presentazione grazie a te dunque io ho la testa piena di chiodi e quindi ci vorrebbe una super super alfa un alfa di terzo livello vediamo se qualche cosa qualcuno che è più in grado così vediamo di darci un po' di tempo per per fare qualche pensiero e metterlo in comune qualcuno vuole intervenire Giuliana Campanella condivido quello che ha detto Patrizio rispetto ai chiodi sulla testa tanto che mi stavo chiedendo ma cosa succede se questa funzione alfa questa super funzione alfa come dire è un po' scadente non funziona bene cioè questa sensorialità non necessariamente è trasformabile perché allora stavo pensando a allo psicotico che viene proprio come dire invaso a proposito di allagamenti comunque viene quasi invaso dall'altro che è molto sensorializzato diciamo così ecco allora mi stavo chiedendo l'altro che proprio entra dentro molto sensorializzato e quindi come e che cosa succede quando non funziona cioè quando la sensorialità ci invade diventa un un pressing ecco poi stavo pensando a proposito dell'ultima parte relativa ai sogni ho cominciato a sognare mentre Nino parlava e mi venuto in mente quando tantissimi anni fa una mia paziente che era un dirigente di un'organizzazione internazionale doveva andare in Africa e tutti i pazienti cominciarono a sognare di andare in Africa cominciarono a sognare gli oneri di noceronti che andavano in Africa allora io mi sono sentita come dire attraversata nel senso che mi sentivo quasi come dire responsabile del fatto che transitavano attraverso di me tutti questi sogni e tutte queste fantasie e questi progetti e questi fatti reali che diventavano sogni ecco per cui poi un'altra volta mi è successo anni dopo una paziente che doveva abortire e altre due pazienti hanno fatto il sogno che dovevano abortire allora questa connessione tra i pazienti attraverso l'analista è interessantissimo a proposito di oggetti di studio che ce ne sono davvero tanti su un sogno per organizzare ti ringrazio ti ringrazio moltissimo di questa domanda perché apre tantissimi orizzonti in primo luogo apre un orizzonte impossibile perché non dipende da noi cioè noi avremmo tra virgolette il dovere di stare sufficientemente bene cioè non dovremmo mai stare male non dovremmo mai essere angosciati non dovremmo mai essere angosciati perché il figlio è stato all'esame di di anatomia non dovremmo mai essere angosciati perché la zia Peppina deve fare quello che sia cioè noi dovremmo avere sempre un funzionamento mentale per fortuna Windico ci aiuta perché dice sufficientemente sufficientemente buono però sufficientemente buono per certi pazienti vuol dire high level veramente veramente livello alto e se ne accorgono in una in un modo pazzesco se tu c'hai anche una mosca che ti attraversa la mente pa immediatamente vedi che comincia a dare colpi per ammazzare la mosca sì è la tragedia dell'analisi questa che noi analisti non dovremmo poterci permettere di stare sia pure minimamente male si impara col tempo un po' sì c'è chi parla di capacità di scissioni fisiologiche c'è c'è chi forse non lo so è un problema non ho capito perché dici la lista che sta male è perché sicuramente in questo eccesso di sensorialità c'è anche l'analista angosciato per i fatti propri cioè l'analista ha litigato con la moglie o col marito che dirsi voglia lo porta in seduta allora noi dovremmo dire ipotesi ha ma noi abbiamo come analisti avendo fatto una buona analisi eccetera una capacità di scissione tale o di chiamarla come vuoi non necessariamente scissione una scissione fisiologica buona eccetera che ci permette di lavorare in modo adeguato ecco però siccome si tratta di livelli profondi io ero interessata al fatto che è come se i pazienti comunicassero fra di loro quasi indipendentemente da me insomma comunicavano fra di loro ma tu in qualche modo fornisci il medium dove sparare se ricordo se ricordo bene poi facciamo girare che c'è in vuole intervenire Diego Spiller se ricordo bene c'è stato tanti anni fa un lavoro di Carla De Toffoli su questo però potrei sbagliare il tema potrebbe essere di Carla sì è un tema di Carla sicuramente sì perché ricordo che aveva concatenato i sogni di vari di vari pazienti però è un ricordo molto antico però anche il nostro funzionamento mentale è una variabile Diego non siamo sempre uguali sì mi collego un po' alla Giuliana Campanella perché parlava della sensorialità intensa psicotica ecco però al di là della sensorialità appunto un po' dello psicotico mi chiedevo ma la sensorialità è solo un passaggio verso gli elementi alfa cioè è un passaggio dai meta elementi attraverso la funzione del sogno o esiste una sensorialità come posso dire che non necessariamente viene trasformata cioè voglio dire insomma per esprimermi più direttamente più direttamente non c'è una sottovalutazione un po' dell'elemento sensoriale che necessariamente non è detto che venga trasformato ma può essere fonte anche di piacere di benessere di per sé e quindi non è oggetto di trasformazione insomma in un certo senso sono perfettamente d'accordo concordo appieno cioè dovremmo stare attenti a non considerare no gli elementi beta come troppo alieni eh cioè dovremmo imparare a saperne fare anche altre cose secondo me e non pensare che siano che poi c'è tutto il problema della patologia della funzione alfa dell'inversione di flusso no un paziente grave è uno che evacua anche attraverso la funzione alfa tutto cioè il terzo volume se ti interessa c'è quel terzo volume di di Bion dello sviluppo cleniano che è formidabile un vecchio libro di Melzer che si chiama lo sviluppo cleniano mi pare il terzo volume è su Bion e affronta tutti questi problemi relativi all'inversione della funzione alfa e lì si apre un altro mondo assolutamente straordinario come con i pazienti gravi eh i pazienti gravi sono una fonte di conoscenza straordinaria chi vuole intervenire mi fate un regalo se intervenite nessuno pensavo a proposito del sogno di terzo livello ma di questo i gruppologi ne avevano parlato tanto con la funzione gamma ascolta se non c'è se non ci sono altri che vogliono intervenire allora perché prima ho detto che avevo la testa piena di chiodi perché perché non è il mio linguaggio non è il mio modo di rappresentarmi le cose in continuazione trovo dei nessi con cose che io direi in un'altra maniera ma sono le stesse presumo siano le stesse quando tu dici che ne so nell'ambito della seduta si crea una situazione che può essere pensata come un sogno io non uso per nulla il tuo linguaggio ma mi è capitato tantissime volte di dire alle persone beh proviamo a pensare questa cosa come un sogno quindi il mio interrogativo è questo sistema di pensiero o meglio questo modo di presentare non saprei dire se la presentazione la sento come la presentazione del metodo psicoanalitico o la presentazione dell'esperienza dell'analisi e quelli che sono i fondamenti dell'esperienza dell'analisi perché possano essere capiti da chi l'analisi non l'ha conosciuta direttamente allora lì questo è un modo per cercare di rappresentarmi il perché tu ti esprimi in questo modo seconda cosa mi chiedo ma ci potrebbe essere qualcuno che sente l'esigenza c'ha la stramba idea di provare a vedere se almeno una parte di queste cose che tu hai detto col tuo linguaggio possano possano essere tirate dentro il linguaggio che ne so per esempio freudiano perché perché noi possiamo moltiplicare le lingue e questo ha una sua importanza probabilmente ha anche un effetto euristico perché nel momento in cui tu dici una cosa in un altro modo ne scopri delle sfaccettature questo non c'è dubbio però il mio interrogativo quello che a me interesserebbe molto per diciamo la fedeltà in un certo senso o meglio la necessità di verificare se il modello originario in qualche modo lo tiene il mio desiderio sarebbe di provare a vedere se le cose che si scoprono usando questa lingua possono essere tradotte al limite con delle inclusioni di elementi nuovi nella teoria che non usa questo linguaggio non so se sono stato sufficientemente chiaro ma i chiodi avevano no sono stato molto chiaro pensavo una cosa che forse il lavoro sarebbe interessante di vedere se è una questione di linguaggio o se al di là o se c'è una storia di linguaggio diciamo un problema di linguaggio ma se oltre al problema di linguaggio c'è anche qualche cosa di più certo punto di domanda per esempio lo pensavo per esempio per la storia infantile o lo pensavo per esempio per il problema della ricostruzione perché se noi pensiamo un ricordo di infanzia poniamo e lo possiamo pensare nei modi più classici in fondo però noi possiamo pensarlo diciamo mentre la storia infantile ha una sua dignità per tutti i motivi che possiamo che sappiamo se noi quel racconto di storia infantile lo pensiamo di più come un precipitato della sequenza pittogramma 1 2 3 a quel punto più che la verità veridicità o altro che sia della storia infantile ci riguarda ci interesserebbe non la storia infantile ma perché quel giorno e a quell'ora con quel paziente si è formata la sequenza pittogramma 1 pittogramma 2 pittogramma 3 sì però Nino dicendo così tu supponi che solo per esempio nel nell'ordine di idee di cui ci hai parlato si possa pensare in questo modo a me sembra assolutamente naturale non credo che o perlomeno adesso non voglio generalizzare personalmente non è che se una persona viene e racconta un episodio dell'infanzia mi preme stabilire la veridicità di quell'episodio io per quello penso che ci sia una possibilità di verificare che cosa può essere detto in un'altra maniera che è quella che per esempio a me è più consueta e che cosa in più come hai detto tu in più viene introdotto grazie a questa visione delle cose e che pone un problema al sistema che non riesce ad integrare quella novità io sono nel momento in cui tu dici le persone iniziano una seduta le persone intese sia l'analizzante che l'analista arrivano con un bagaglio di elementi sensoriali elementi sensoriali a tantissimi livelli evidentemente si crea lì una situazione che è quella che tu descrivi come la costruzione l'istituzione di un campo del giorno dove allora facendo ricorso al mio linguaggio quello che può emergere può derivare da tantissime parti per esempio un inconscio rimosso un inconscio non rimosso eccetera eccetera tutte queste cose qua per usare il tuo linguaggio sono poi quei chiodi che costruiscono e attivano diciamo delle necessità di elaborazione allora in questo senso credo che sarebbe utile da una parte verificare quali sono le cose che pongono dei problemi al diciamo alle costruzioni mi viene da dire più tradizionali scoprendo quello che non si riesce proprio ad affrontare con quelle costruzioni però dall'altra c'è anche almeno da parte mia e dopo mi taccio perché se no parlo troppo da parte mia ci sarebbe il desiderio di capire dove nasce la necessità di inventare una nuova lingua anziché tirare diciamo la lingua più comune in modo tale che quella lingua venga messa alla prova per verificare che cosa è in grado di esprimere e che cosa invece non è più in grado di esprimere dando per scontato secondo me non può essere dato per scontato che si debba cambiare lingua per dire delle cose pensavo una cosa mi verrebbe da dire due cose una cosa è che posta la sequenza del pittogrammi più uno più due più tre in fondo diventa per me uguale se poi il paziente sceglie di parli sceglie non è mica lo sceglie si trova a si trova a raccontare questa sequenza usando un dialetto di un'esperienza infantile oppure usando qualche cosa che riguarda la guerra in Ucraina perché in qualche modo paradossalmente ciò che diventa interessante da un punto di vista psicoanalitico è proprio il p1 p2 p3 o se vogliamo la quantità la modalità della sensorialità e meno quelli che sono i gradini poi e poi c'è una differenza che direi però la prima differenza di cui vorrei parlare e che forse ne parlerei e magari mi viene subito chiarito che non c'è questa differenza è il peso della mente dell'analista in seduta cioè diciamo il peso della mente come sta oggi l'analista come come sono le sue qual è il suo funzionamento mentale quanti quanti chiodi si è ha incontrato con la suocera questo dico le ciocchezze ovviamente ma in fondo noi siamo di fronte una vita mentale o siamo comunque presenti siamo in compagnia di un comunque sempre di un gruppo e non e scusa devo dare la parola a Giuliana però mi piacerebbe fare un referendum chi di noi pensa diversamente cioè c'è qualcuno che la pensa diverso si si alzì la mano ma allora perché abbiamo detenuto tanti anni no perché secondo me bisognerebbe anche rendersi conto che la storia è andata avanti per tutti mi taccio Giuliana poi c'è Tottor Russo si è parlato di tanti di tanti cibi non mi vedi Giuliana dovrebbe essere in alto a sinistra perché ha alzato la mano io sono in alto a sinistra avevo detto prima dei sogni che accomunano i pazienti allora allora tu hai detto che un paziente dice che la moglie è risentita perché quel giorno il fottivendolo ha portato in casa delle verdure delle frutte che sono andate a male allora e tu dici trasformiamo questa comunicazione in un sogno e Patrizio aggiunge io proporrei al paziente di dire possiamo vedere questo racconto come un sogno allora io che cosa avrei fatto mi sarei chiesta che cosa c'è di andato a male che mi sta portando oggi il paziente e non avrei detto nulla cioè non avrei utilizzato sul momento questa comunicazione questa immagine ma mi sarei chiesto che cosa c'è di marcio di andato a male e avrei aspettato quindi a proposito di linguaggi diversi scusami una cosa ti chiedo ma qualche cosa che è andato a male portato dal paziente o anche eventualmente dall'analista oggi vuoi patrocizzare per forza l'analista e che funziona male e che sta male e che è ammalato a me capita di non essere sempre uguale come no mi sembra che non è come per scontato io mi sarei chiesta questo mi sento che mi sarei chiesta il senso di raccontare qualcosa che è andato a male e che lo porta dall'analista ecco che cos'è che è andato a male poi gli si aprono gli scenari su quello che poi è andato a male la relazione con l'analista il rapporto con la moglie il rapporto con il fruttivendolo questo non lo sappiamo ecco per me è più globalizzante c'entra sempre l'analista cioè tutte le scissioni io faccio alla Betty Joss pur non essendo cregnano ormai da tanti anni anche se il prezzo di essere lo Stato forse Totò Russo quello è un maschio indelebile guarda io vedo i denti della generalica Salvatore Russo ecco io ti ringrazio molto perché gli stimoli sono tantissimi e diciamo che io direi dei chiodi e della caponata i chiodi secondo quello che mi pareva di capire hanno anche un carattere di tenere insieme la scultura nel momento in cui può cadere in pezzi ora io parlo di psicotici di pazienti gravi bisogna stare molto attento a togliere i chiodi perché si sfascia la mente e quindi alcuni chiodi vanno ottenuti cioè nel senso che ci sono probabilmente degli aspetti che noi chiamiamo deliri che possono essere anche ideologie o teorie per esempio psicoanalitiche no? e l'altra cosa era il passaggio dal rumore alla voce per esempio molti psicotici più di uno sentono un rumore per esempio non so i tubi dell'acqua calda e poi dal rumore diventa una voce che dice tu non hai fatto niente di buono tu sei un disgraziato e così via però sono frasi ripetute come degli slogan che hanno un carattere persecutorio allora il discorso della caponata sarebbe a me piace molto però non so bene come si fa la posso mangiare e qualche volta subisco una caponata anche con cibo guasto fatta male e questo è il lavoro nella coppia analitica secondo me c'è proprio un linguaggio condiviso che diventa un dialetto analitico e rispetto al quale qualche volta il cibo guasto e dell'analista sono d'accordo con Antonino qualche volta e che non sempre si ha coscienza nel momento in cui la caponata è fatta ci sono le melanzane e i pomodori e anche qua ci vuole un'analisi molto approfondita e poi soprattutto le conseguenze il male di stomaco allora questo passaggio dalla realtà al sogno ecco una delle cose che mi sono molto piaciute oltre a tutto Pirandello ovviamente ma la vita adesso suegno di Calderon della Barca è un esempio molto bello poetico di un passaggio dalla realtà al sogno dove chi comanda in questo caso il re decide di rimettere in prigione il figlio che non è adeguato non ha una funzione alfa sufficiente no? e quindi tutto il discorso che io volevo fare era sì il peso della mente dell'analista ma il peso di una coppia analitica e la sensorialità reale condivisa per esempio non so c'è il temporale davvero l'acqua alta a Venezia abbiamo avuto delle cose e il terremoto no? anche in Sicilia no? c'è il terremoto e c'è chi continua la seduta come se il terremoto non ci fosse perché siamo in un mondo di Marziani e quindi tutto il rapporto tra setting e caponata ecco io mi fermo così perché sono stimoli molto molto intensi che credo richiederebbero elaborazioni di molti anni che io non ho grazie comunque grazie in attesa che qualcuno voglia intervenire mi permetto di dire se Totò mi consente ma lo dico e poi casomai mi togli l'autorizzazione che l'utilità della lingua di Nino sta o meglio si potrebbe capire tenendo tenendo conto delle caratteristiche dell'intervento di Totò stasera e della differenza degli interventi delle altre volte di Totò io non c'ero le altre volte però molti c'erano e c'è è un fenomeno forse non c'ero neanche io sai le altre volte questo è il punto che stasera ci sei in un modo molto particolare e allora questo qualche cosa è stato attivato 50 anni fa cosa? io ho conosciuto Antonino da De Martis 50 anni fa e quindi c'è anche tutta una storia infantile reciprocamente separata non passiamo alla Marcord se no perdiamo la novità eh ma la Marcord è necessaria io sono fanatico di Fellini di Pirandello di tutte queste ti hanno azzittito non io però ti sei azzittito e allora do la parola a Diego Spiller di nuovo se non c'è qualcun altro che deve intervenire non vedo mani alzate quindi invito tutti ad alzare un po' la mano e così poi arriviamo verso la conclusione con qualche altra questione in più Diego allora per stare sempre sull'area della sensorialità i chiodi hanno fatto venire per stare nella metafora culinaria i chiodi di garofano che quindi insomma in qualche modo entrano dentro la ricetta però permangono come elemento sensoriale anche concreto direi perché rimangono abbastanza integri quindi come dire la sensorialità un po' ecco forse potrete trasformarlo così come elemento del sogno però pensare sulla teoria perché siccome la serata è stata appunto come ha detto Ferro abbastanza teorica cioè avevo una curiosità ecco teorica nel senso che volevo chiedere a Ferro se io cerco di capire l'analogia tra le rappresentazioni di cosa e gli elementi beta giusto per fare così un'analogia cioè sto facendo un'operazione praticamente inutile nel senso superflua perché stiamo parlando di due paradigmi diversi e quindi non confrontabili oppure sto facendo un tentativo come forse diceva Patrizio prima di capire se sto aggiungendo qualcosa di veramente nuovo alla psicanalisi in generale ma sai posso darti una risposta di cuore e una che non più completa io ho ritenuto che tenere i linguaggi distinti fosse un'operazione utile perché mi ero trovato come dire certe volte a qual è l'analogia la differenza che so tra la funzione alfa e l'io faccio per dire di una casa ecco e non mi quando ho lasciato stare queste cose sono stato meglio e mi trovavo meglio all'interno del mio condiviso con altri ovviamente modello considerando anche che con questo modo di lavorare ho lavorato moltissimo con pazienti molto gravi e che con pazienti molto gravi diciamo queste modalità di approccio funzionano questo è il motivo per cui penso che Totò si è entrato immediatamente in sintonia e come dicevano poc'anzi per esempio io non trovo molta differenza tra analisi di pazienti nevrotici di pazienti border o di pazienti psicotici o di bambini o brutti sono mi mi sembrano ugualmente raggiungibili con questo modello che avrò anche molto semplificato perché voglio dire ci sono 40 anni di di lavoro su Bion che io ho trasformato un po' nelle vignette di Paperino ma però io sarei sempre dispostissimo al confronto affettuoso perché credo che sarebbe produttivo di di quello che nasce senza saperlo prima ma senti ma non ti fa rabbia lasciare dei chiodi che non puoi togliere perché a me faceva molto rabbia dire questo chiodo non lo posso togliere perché sennò si sfascia la testa e anche dovermi tenere i miei ogni tanto aspettate se io chiudo qui un attimo che succede perdo tu la connessione o no cosa vuol dire se chiudi se metto dove c'è zoom metto il pallino rosso che succede no no non farlo sennò ti ti sconnetti non farlo allora poi vi manderò vi manderò l'omino con i chiodini perché ho visto è molto bello quello tuo veramente bellissimo non lo vedevo stupendo quello mio è uguale con tutti i chiodi in testa io ne ho una di queste statue è bellissima ti manderò la foto allora qualcun altro vuole intervenire altrimenti ci avviamo alla conclusione vedo facce pensose evidentemente c'è bisogno di una notte in mezzo per per poter dire qualcosa di più allora ci vediamo domani sera sentite allora chiudiamo ringrazio tanto Nino per questa serata che è l'ultima delle dieci e quindi nel momento in cui nel momento in cui ci congediamo sono stati due anni di appuntamenti di questo tipo per cui una cosa un po' particolare noi abbiamo pensato di proporre un seminario di studio ovviamente adesso abbiamo raccolto il materiale da studiare adesso si tratta di studiarlo e di metterlo a frutto quindi bisognerà inventare un modo per per elaborare questo materiale tutto il materiale delle dieci lezioni noi intanto chiederemo a tutti i dieci che sono stati invitati di darci un testo questo testo beh esistono già le videoregistrazioni delle serate però credo che tutti possano metterci a disposizione un testo da leggere con calma da studiare da interrogare questi testi entreranno a far parte di uno dei Knot Garden che prima o poi si faranno su questo argomento sapete che il Knot Garden è la rivista telematica del centro Veneto noi come centro Veneto continueremo a lavorare su questi materiali faremo dei seminari interni per i soci il primo lo faremo dopo l'estate dove cercheremo di cominciare a mettere in comune punti di vista che sono nati e cresciuti grazie a queste lezioni dopo bisognerà vedere come ulteriormente sviluppare il lavoro diciamo che una fantasia era quella di chiedere a voi dieci di se avete voglia quando ci saranno i testi di guardarli di leggerli di scorrerli quanto meno e di offrirci un anche breve aggiunta a posteriori un'aggiunta sulla base del dibattito che c'è stato perché perché l'idea è quella di fare di fare di questa occasione proprio un seminario non una rassegna e sicuramente ci saranno persone tra di noi che avranno piacere di sviluppare lo studio di questi testi però credo che potrebbe essere interessante anche per voi noi vi abbiamo scelto e questo lo dico a te se avranno voglia poi di collegarsi anche gli altri noi abbiamo scelto questi dieci psicoanalisti individuando un target molto particolare cioè degli psicoanalisti che all'interno della società di psicoanalisi la nostra sono punti di riferimento capi scuola potremmo dire e quindi sono stati scelti con questo criterio so che siamo stati anche criticati un po' derisi perché si tratta di dieci uomini non c'è una donna tra questi tra quelli che abbiamo scelto ma non è stata una una responsabilità nostra è stata una responsabilità della SPI della storia della SPI quella di avere in questo momento una fascia di persone che potevano corrispondere a questo nostro target che è fatta da queste persone ovviamente avessimo modificato un po' il target intanto non avremmo potuto farne dieci ma almeno ventitrenta ma avremmo perso la possibilità di interrogare alcuni colleghi che sono dei capi scuola perché questo noi abbiamo cercato di avere il punto di vista di alcuni capi scuola o almeno quelli che noi abbiamo ritenuto tali non necessariamente perché ciascuno di noi li ritenga tali ma perché sono riconosciuti dalla comunità psicoanalitica come tali allora noi abbiamo voluto mettere a disposizione nostra innanzitutto i materiali e su questi lavoreremo ovviamente sarebbe bello qualche fantasia stata fatta su come fare per continuare a mettere in comune il patrimonio però sì non corriamo un'ulteriore cosa e poi vi saluto rimane una un risvolto che potremmo decidere o meno di di percorrere che è quello del del chiederci che cosa alcuni ambiti della pratica psicoanalitica intendo che ne so la psicoanalisi dei bambini la psicoanalisi degli psicotici eccetera hanno in modo specifico dato come elemento aggiuntivo alla teoria del metodo però credo che molte cose che sono state dette in queste dieci serate abbiano già in parte risposto a questa necessità forse è rimasto un po' fuori l'indagare perché nessuno di voi dieci lo ha fatto di indagare quel qualche cosa se c'è di peculiare che la psicoanalisi infantile ha posto come questioni al metodo psicoanalitico poi la questione del metodo avete visto è stata trattata in dieci modi molto diversi ciascuno ci ha portato essenzialmente il suo modo di considerare la psicoanalisi credo che noi adesso avremo la possibilità anche la necessità di estrarre quel qualche cosa che ciascuno dei dieci ci ha dato per illustrarci le ragioni del metodo se vi ricordate e dopo veramente ci salutiamo se vi ricordate una delle cose da cui siamo partiti che dissi all'inizio era il fatto che abbiamo un'infinità di punti di vista all'interno del mondo psicoanalitico spesso non dialogano tra di loro qualche volta anche confliggono però se c'è una cosa forse l'unico è Nino che si è si è tenuto diciamo da parte rispetto a questa consuetudine una cosa che generalmente si dice che il metodo è rimasto lo stesso cioè lo hanno detto tutti e l'interrogativo è come è possibile o meglio come è possibile non indagare a fondo quali sono le ragioni del metodo le ragioni per cui il metodo è rimasto lo stesso adesso forse Nino stasera e ripeto forse è l'unico che non si è posto la questione ma per le ragioni che ha detto prima che si è trovato più a suo agio costruendo una lingua che che però è feconda nell'ambito della clinica e della comunicazione tra colleghi e lo abbiamo visto sentite grazie a tutti grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questi nostri incontri tantissimi di noi sono stati presenti tutte le volte ed è veramente una cosa straordinaria e buonanotte grazie Patrizio a voi tutti ciao Nino ciao a presto buonanotte buonanotte grazie un abbraccio a tutti ciao ciao Alberto grazie buonanotte ciao 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 ciao